salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi cominciamo un'altra settimana alleneremo il petto faremo una panca piana faremo 4 serie con 74 kg 4 serie per 5 ripetizioni 74 kg ci proveremo altrimenti va bene faremo 4 ovviamente andiamo andiamo a pesarci prima di eseguire gli esercizi a 59.20 kg Grassa corporeo 13,1% Rispetto alla volta scorsa abbiamo perso mezzo chilo e abbiamo perso anche 0,3% di massa grassa Facciamo il secondo esercizio, anga inclinata 50 kg, 3 serie per 10 ripetizioni Grazie a tutti Adesso, panga inclinata, stesso peso, 50 kg, 3 serie per 10 Anche le ripetizioni e le serie uguali Ragazzi, della panga inclinata, vi giusto, sono morto Ho fatto 3 serie però La prima l'ho fatta da 10, poi le altre da 8 Perché veramente sono di su tipo ancora 50 kg, si sentono Quarto esercizio Abbiamo spinta su panca leggermente inglinata Sostituisce la chest press, noi lo faremo con i manubri Sarebbe una sorta di chest press con i manubri Faremo 16 kg per manubri Le ripetizioni saranno 4 per 8, 10 ripetizioni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo giunti all'ultimo esercizio per il petto Aperture, cavo alto, 24 kg, 3 serie per 10 ripetizioni Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo pronti per allenare l'addominale Addominali faremo Cari alla corda con il 3, ovviamente Faremo 3 serie per 20 ripetizioni 24 kg Poi faremo i laterali Con 10 kg in meno Perché qua facciamo 24 kg di crunch Non fate caso a quello che ho detto prima Scordate di tutto Scordate di tutto Faremo il crunch con un primo esercizio 3 serie per 20 ripetizioni 24 kg E poi ovviamente faremo i laterali con 10 kg in meno E poi che a dormire di più basse A presto A presto A presto A presto A presto Adesso addominali bassi faremo la specie di leg grace da seduto sulla manga, un breve scrunch più che altro da seduto con il peso da 3 kg come avete visto già nell'allenamento di venerdì. Siamo pronti, scusate il giovedì che era il giovedì, cominciamo con l'esercizio. All'allenamento terminato, siamo pronti per fare il check fisico, ci vediamo al prossimo episodio. A presto A presto A presto A presto A presto